Chi non passa dalla formaggeria non potrà uscire dal centro commerciale. Noi diamo formaggio e amore. Indovinate dove sono stati prodotti questi formaggi. Bravo! No, perché alcuni hanno detto all'ospedale. Ma gli stai dando un fiore di formaggio? Al giovinotto qua. Sei fortunato. Nell'antichità lo sbrinz veniva barattato. Cosa può darci dal suo carrello? Le zucchine e della passata. Lo sbrinz. È un formaggio pregiattissimo. Io le prelevo immediatamente. Una bottiglia di vino e questo salame. Prenda un pezzo di sbrinz. Due? Due, due, vada. Se lei mi dà un tarallo, io le do un pezzetto di sbrinz. Si puoi fare spritz e sbrinz. Perfetto, bravissima. E poi il formaggio hippie! Hurra! Hippie! Hurra! Ciao! Ciao! Ciao!